Sono partito a fare questo lavoro che praticamente nel corso di aerotecnica non era quasi contemplato, perché si faceva un esame di idraulica molto sui generis legato più alla teoria che alla pratica, ho avuto la fortuna di avere un capo e dei collaboratori che mi hanno insegnato il lavoro che dovevo fare, poi man mano si è cresciuti all'interno della ditta, affidò ad assumere la responsabilità della progettazione degli impianti. Dopodiché è cominciato questo cambiamento di cui parlavano prima, è cominciata ad essere inserita in ditta a seguito appunto dei cambiamenti di capitale sociale, personale che arrivava da altre ditte, con visione del lavoro diversa dal nostro, per cui si creava già un po' di slegamento all'interno come modo di ragionare. A un certo punto mi è stato proposto di andare a lavorare a Genova come program manager del P166 di P1, che era una rimotorizzazione del P166. Sono rimasto lì fin quando il progetto è stato finito, dopodiché sono ritornato a finale come responsabile di una parte di Airworthiness per la certificazione. Dico la verità, un lavoro molto formale che non mi è mai piaciuto, infatti nel giro di due anni sono riuscito a ritrovarmi in buco a Genova a livello manutenzione, ci sono rimasto purtroppo per pochi anni per motivi familiari e ho dovuto lasciare. La vecchia Piaggio era una famiglia, perché realmente potevi parlare anche con lo stesso Piaggio, mi ricordo che eravamo una sera a Genova, erano le 9 di sera, si facevano delle prove su un impianto carburante, arriva Piaggio da Roma, si ferma lì e viene a chiedere cosa state facendo, come andate avanti, sono quelle piccolezze che non significano niente, che poi tradotte a livello di quanto avete già sentito, a livello monetario erano zero, perché lo stipendio Piaggio è sempre stato qualcosa di bassissimo, però davano soddisfazione. A proposito dello stipendio, mi ricordo che quando mi hanno assunto, mi hanno detto, lei deve capire, avrà avuto sicuramente delle offerte per uno stipendio più alto, ma qui c'è il mare, se si volte indietro vede, ci sono le montagne, dove trova un posto migliore rispetto a questo? E infatti avevamo cognato la dicitura trattenuta per agiata sede, era tipico, però ci stava i volentieri. Grazie a tutti.